A Nocera è inferiore cittadini esasperati ed armati di striscione e mascherine in piazza Diaz ieri sera per protestare contro lo stato di degrado in cui versano i torrenti Cavaiola e Surofrana e cattivi odori che provengono dai corsi d'acqua sono resi ancora più insopportabili a causa della forte ondata di caldo che in questi giorni ha colpito anche la città di Nocera. I presenti hanno puntato il dito contro la mancanza di un collettore fognario che porti le acque nere ai depuratori. Una delegazione di cittadini ha incontrato il sindaco Maglio Torquato che ha confermato che il progetto per la realizzazione della rete fognaria esiste e che il comune come ente propulsore si sta occupando della situazione da due anni. I cittadini hanno chiesto di essere informati sugli esiti dei prossimi incontri che si terranno tra il primo cittadino e la regione. Sì, perché dobbiamo far prendere coscienza ai cittadini nocedini che siamo noi stessi a scaricare nella Cavaiola e nella Surofrana. Ci sono 20 scarichi che non sono del privato ma sono della rete comunale che è sversa nel fiume e questa è una situazione che va avanti da secoli, solo che negli ultimi tempi è diventata insorportabile perché Cave e Nocera Superiore, che sono a monte di Nocera Inferiore, hanno collettato, mandano i loro refuli al depuratore di Casarzano. e questo non capiamo perché la regione ha fatto i lavori nel 70% dei comuni del bacino del Sarno. Stamattina è stato firmato un protocollo a Sarno per la rete fognaria di Sarno e a Nocera Inferiore siamo ancora con ritardo, non direi di 15 anni. Sono degli olezzi nauseabondi, c'è un'invasione di ratti, cioè la gente si vede arrivare i topi fin dentro casa e non stiamo esagerando perché purtroppo abbiamo avuto segnalazioni in merito, per cui abbiamo organizzato questa manifestazione, ripetiamo, lo vogliamo ripetere, a partitica, nel senso che non siamo legati a nessuna corrente politica, vogliamo però essere ascoltati perché i cittadini sono esasperati da questa situazione. Io ho fatto la sfumatura di Puzza che è questa notte giorno chiusa e sto commettendo a 10 anni con questo signore Rosino che stiamo hanno un mazzo di giornale qui, un mazzo di nuove è venuto, hanno fatto le sposte, hanno un bello spiezzato, guarda, la notte ci siamo richiussati, io pago l'IVA, io pago il ciumma, la bonifica, come pure gli cittadini sono stati i soldi, non è vero. Io ho sentito che il ciummaio, a Rocca e a Piemonte hanno fatto il fugnatore, il giardinetto, il villetto, il rotatore, i soldi ci stanno, noi che siamo cittadini, chiunque viene a casa mia ha già avuto la propria, perché dice, come ci stai, Lucia, ne puzzi questo santaforo per tu, io moro la puzza, signor Rosino, che per piacere, venite a prendere un bello che fa a casa mia in 5 minuti, dove è stato? E venite come è bello, è andata parecchia gente là, che ha detto, signor, e come c'è stato? Nessun anno prima delle votazioni, io ho incontrato vicino al Banco di Napoli, e voi mi dite, non preoccupate, che apriamo di breve di me, passate la mia colpa, la santissima colpa, e dice, stai gente, io sono stato operato, giorni fa, ti capite? non posso svelare, non c'è gente, mi capite? Perché è una puzza enorme, ci manciamo, non può che manciamo, manciamo merda, merda, non mi mangiò la notte, mi ero mai chiusa la rinta, perché la puzza mi viene male a capo, che mi sento che ci pazza, che qualche notte questa vengo come un, perché non vale, scassa, porta e tutta cosa, ormai è giorno mia, è giorno mia, oggi è finita, io tengo l'età, come pure c'è stato, ogni anno, recitano le bui, che partengono a Bonif, o consorzio di Bonif, facessero un po' di polizia, stanno le piante, stanno la merda che c'è, e le piante erano i metri, fra poco vengono da me, c'è uscita, c'è uscita le piante, stanno la merda, stanno tutti sempre, ricerca schifo, e mi dicevano in un suo comune, tutte le stelle, che non posso camminare, mi hai capito, che sono melato, e mi hai capito, 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 allora, diciamo che, questo dato ufficiale, è che siamo al sesto posto, di questa triste graduatoria, crimini contro la natura, il fiume Sarno, è il sesto fiume, più inquinato del mondo, ancora oggi, questo è 2014, ma ancora nel 2017, rimane tale, oltre questo, c'è, anzi da aggiungere, purtroppo, è peggiorare, che nel fiume Sarno, che tocca diverse città, e sono, oltre al ritrovamento di sostanze, quali metalli pesanti, arsenico, addirittura gallio, che è un raro metallo pesante, ma molto velenoso, ed altri pesticidi, eccetera, eccetera, però, diciamo, queste hanno determinato, la possibilità, che, sia aumentato, il numero di malformazioni, dei nascituri, nocera superiore, è al primo posto, poi viene, anche lì, nocera inferiore. Veramente fa schifo, quel fiume, io ho pagato, anche la bonifica, non avrei dovuto pagarla, perché, purtroppo, non fanno un cavolo, per aggiustare la situazione, però ho detto, vabbè, vediamo un pochino, io pago, per quest'altra volta, la rata, se per caso, poi non dovessero fare niente, anche dopo, e allora, chiaramente, mi farò sentire, in modo diverso, ma meglio di questo, di questo che stiamo facendo adesso, penso che non ci sia, qualche altra cosa di migliore, io, vi apprezzo, chiaramente, vi sono riconoscente, di questo aiuto, come me, penso che, mi siano riconoscenti, tutti quanti, e, spero che le cose, si aggiustino, altrimenti, veramente, è un morire. Ma siamo esseri umani, o chi siamo? a me, la posse. Grazie. Grazie a tutti